Il Presidente Giovannone inizia una nuova stagione alla Nissa, questa ambiziosa Nissa che vorrebbe tanto fare questo salto di categoria anche a partire dall'ingaggio di Mr. Terranova. Beh, ovviamente abbiamo iniziato con Terranova, Russello, con quelli che hanno vinto l'anno scorso e proseguiremo con i calciatori che riteniamo idonei a fare questo salto di categoria. Non è mai facile perché sono sempre altre squadre lo stesso competitive, però sì, l'ambizione è di fare un campionato per vincere, è inutile nasconderci. Anche perché avete uno stadio che potrebbe anche ospitare partite di Serie C, quindi l'immagine fa tanto e voi sicuramente contribuirete a questo percorso che sognate, insomma. Uno dei modi per cui dopo aver rifiutato tante offerte da tante città, anche nel nord Italia, ho scelto Caltanissetta per lo stadio perché comunque è un progetto importante da seguire e lo stadio si presta. Poi ho trovato un affetto molto forte da parte della gente, Nissena, che io ricambio e insomma c'è un cocktail molto molto gustoso che renderà insomma il progetto ricco e soddisfacente. Ci auguriamo tutti.